Siamo qui oggi per consegnare questo mezzo che è stato donato da Rospi Nazionale e dalle altre regioni non colpite dal terremoto. A presenza della compagna Lucia Rossi della segreteria nazionale Rospi, che ci ha presentato anche le ragioni di fase, diciamo, da terra al terremoto. Fino ad oggi ci è stato dato già un altro mezzo che è quel doblò, un'inzona che poi anche gli ali ha ricevuto il progetto regionale di Ospi e l'Ospi Nazionale. Ci sarà potata per gli invaliti. Tutto quello che l'Ospi Nazionale ha deciso insieme alle zone così dal sisma non siamo nessi. Le condizioni attraverso una raccolta di fondi che tra l'altro hanno contribuito tutte le sedi di permanenza delle camere del lavoro. Non saranno soltanto sedi in cui la permanenza sarà garantita soltanto dai... Il nostro Paese purtroppo o per fortuna...